Questo video presenta il corso online di preparazione alla prova orale per il concorso per dirigenti scolastici, promosso dalla Casa Editrice di Roma, Garamond, ente formativo per i docenti. Il corsista, una volta effettuata l'autenticazione con i parametri ricevuti via e-mail, seleziona l'edizione e accede a tutte le funzioni disponibili in piattaforma. Tra queste, ad esempio, vediamo i forum attraverso i quali si possono porre domande allo staff e ricevere risposte. Tutti i materiali, anche delle precedenti edizioni, sono disponibili per i corsisti, sotto forma di pagine web o di file PowerPoint o PDF da poter scaricare anche sul proprio PC per un utilizzo anche offline o per poter essere stampati. Nell'area dei materiali, sono inoltre disponibili tutte le precedenti videolezioni del corso, da poter vedere in differita o da scaricare in formato solo audio per un ascolto in mobilità. Questa edizione del corso prevede 12 incontri di video-lezione in diretta, durante i quali è possibile, attraverso diversi strumenti, interagire con il relatore. Si può seguire la lezione con le slide, si può richiedere di intervenire in audio e in video con webcam e microfono oppure si possono scaricare sul proprio PC le slide stesse. Nella parte in basso della schermata, è possibile anche scrivere domande alle quali il relatore può rispondere in diretta. Il corso, già apprezzato dagli iscritti alle precedenti edizioni, offre dunque molti strumenti di interazione e partecipazione collaborativa, sfruttando le potenzialità multimediali della rete.